Buon pomeriggio da New Orleans negli Stati Uniti, fa un caldo terribile ci sono 35 gradi e in questo video vi porto ad un evento davvero davvero speciale, è una parata musicale che si chiama Second Line. Che cos'è la Second Line? In pratica è una tradizione di questa città unica negli Stati Uniti, si fa soltanto a New Orleans, è una tradizione importata dagli schiavi dall'Africa e in pratica venivano fatte questo tipo di funerali, venivano in pratica chiamati dei musicisti e questi musicisti facevano musica jazz, portavano strumenti come trombe, sassofoni, bassotuba e quindi si è creata a questa tradizione e la Second Line in pratica sono i musicisti che stanno nella seconda linea. All'inizio della parata di solito c'erano i musicisti che andavano a passo lento e portavano il... di solito c'era la carrozza con la Cassa del Morto e nella Second Line c'erano musicisti che facevano una musica un po' più allegra e c'era tantissima gente che ballava ai funerali. È un'esperienza davvero davvero interessante. Voglio farvi vedere alcune immagini delle altre due Second Line che ho visto. Queste erano anche speciali perché sono state fatte come funerale di un musicista morto due settimane fa che si chiama Dr. John che è un musicista davvero amato e famoso nella città e ho assistito a queste due Second Line. Vediamole e vi fate un'idea di che cosa sto parlando. Guardate quanta gente che si è radunata. È stata davvero un'improvvisata con un passaparola su Facebook. Guardate quanta gente che c'è. è quella di che si è radunata. Ed eccole qua i primi musicisti che sono fuori. Grazie. E' bellissimo ragazzi, non ci sono parole, è tutta musica, musica da New Orleans. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.